Buona la riuscita a Tauria Nova per la prima edizione della suggestiva passeggiata di Babbo Natale, tutti in corsa per la ricerca, promossa dall'Associazione Amici del Palco in collaborazione con la consulta delle associazioni di Tauria Nova in sostegno dell'Ael, l'associazione italiana contro le leucemie, linfomi mielomi, che ha sensibilizzato alla città la necessità continua della ricerca scientifica e all'assistenza ai malati ematologici anche attraverso l'albero della vita, realizzato all'uncinetto da tantissime volontarie che illumina in questi giorni di festa la piazza centrale della città intrecciando storie, desideri, lacrime e speranze. In queste festività natalizie tanto sono le iniziative che l'associazione ha regalato alla città di Tauria Nova, spiega Giacomo Cariotti, presidente dell'associazione Amici del Palco, ma fra le tante meravigliose attrazioni abbiamo voluto organizzare la manifestazione che oltre a far divertire i bambini potrà dare anche un reale contributo a chi lotta per la vita e il divertimento è stato assicurato anche grazie alla disponibilità e all'entusiasmo della Polizia Municipale che ha diretto il traffico dei tanti e piccoli e grandi babbi natale e nel trenino che hanno percorso per tutto il pomeriggio la città facendo ritornare i bambini, anche i più grandi, e durante il giro sul trenino tutti hanno potuto apprezzare le diverse luminarie che l'associazione ha installato in diversi punti della città, rivivere le tradizioni del territorio gustando le zeppole fritte in piazza, avvolti da musica festosa degli zampognari.